Buonasera cari telespettatori e ben ritrovati qui negli studi di GoTV per un altro appuntamento di GoRealEstate. Voi lo sapete che a condurre con me questo format c'è Marco Bonavita, cofondatore del gruppo GoRealEstate. Buonasera Marco. Buonasera Giulia. Marco noi questa sera di cosa parleremo? Parleremo e daremo consigli molto interessanti e utili a tutti coloro che hanno intenzione e vogliono acquistare un immobile, giusto? Esatto, esatto. Infatti questa è una delle domande che ci capita più spesso ricevere. Ne comprendo anche l'importanza dato che acquistare un immobile è sicuramente un evento unico che capita nella vita. Detto questo insomma noi cerchiamo di dare degli spunti che possono di certo essere utili. È una domanda questa tendenzialmente molto generica e aperta. Quindi dare anche delle risposte secche è difficoltoso. Quindi cosa facciamo? Cerchiamo di porre delle domande. Porre le domande affinché insomma riusciamo ad aiutare le persone a concentrarsi e selezionare la casa che soddisfi quanto più le loro esigenze. E quindi Marco tu cosa suggerisci proprio a coloro che hanno intenzione di acquistare una casa? Allora diciamo che partiamo sempre da valutare due aspetti. Non è il budget. Innanzitutto capiamo se diciamo la fonte per acquistare la casa deriva da diciamo proprie liquidità oppure se bisogna diciamo avvalersi di un intervento bancario quindi di un istituto di credito. Per la maggior parte dei casi ci si appoggia un istituto di credito. Quindi è fondamentale fare una consulenza con un broker creditizio o con la propria banca affinché insomma si capisce realmente qual è il potere d'acquisto e quanto mutuo si può avere, quanto mutuo si può chiedere alla banca. Ecco quindi questo di certo è importante. Dopodiché si vanno a valorizzare quelli che sono le esigenze. Quindi per quale motivo si compra casa. Tutti noi quando compriamo un bene lo facciamo per soddisfare un'esigenza. A maggior ragione quando si acquista una casa. I motivi possono essere molteplici. Diciamo può essere per dimensione, può essere per zona, può essere per caratteristica. Quindi una casa che sia nuova, recente, da ristrutturare. Può essere che la voglio al piano alto, piano basso, con terrazzi o giardini quindi con spazi esterni. Oppure semplicemente perché insomma devo avvicinare i bambini a scuola e quindi devo cambiare per questo motivo. Le esigenze sono comunque sempre molte ma io credo che soprattutto in un periodo come questo siano anche un po' cambiate forse le esigenze delle persone, vero? Sì, infatti immagino che ti riferisci alla pandemia appunto che stiamo vivendo. Si è effettivamente cambiato tutto. Dal momento in cui appunto è arrivata ed eravamo in lockdown sicuramente arrivavano notizie molto pessimistiche sul mercato immobiliare. Una volta usciti invece ci si è resi conto che è stato molto effervescente e questo è dovuto al fatto perché le esigenze delle persone sono cambiate. C'era bisogno di un cambiamento. Dal pre-covid in cui la casa doveva essere smart e quindi grande il giusto per viverla poco tempo e spesso si stava fuori anche il weekend. Da quando invece è diventata un luogo dove si passa veramente la maggior parte del tempo, compresi il weekend e quindi a questo punto ci si è resi conto che forse doveva essere un po' più comoda. Poi è nato lo smart working, la dad, quindi forse in casa serviva uno studio, forse è meglio averla col giardino e terrazzo per vivere dei momenti di relax. Insomma, veramente è cambiato molto. Sì, effettivamente anche io mi sono accorta che in questo periodo le mie esigenze sono cambiate totalmente, quindi capisco perfettamente. Marco, ma invece per tutti coloro che hanno già un immobile di proprietà, quali consigli dai? Allora, anche qui partiamo sempre da capire la possibilità economica, no? Quindi diciamo che chi ha, diciamo, molta disponibilità e anche un buon accesso al credito consigliamo di concentrarsi prevalentemente sulla nuova abitazione e poi valutare la vendita della propria casa, anche perché ricordiamo che ad oggi esistono ancora le agevolazioni fiscali per coloro che non hanno ancora venduto il proprio immobile che però lo devono fare entro un anno dal nuovo acquisto. Invece per coloro che insomma è fondamentale vendere la propria casa per acquistarne una nuova consigliamo di realizzare due fasi. La prima è quella di capire qual è il reale valore della propria abitazione. Dopodiché capire se l'immobile desiderata esiste e una volta, diciamo, compreso questo invitiamo le persone a mettere in vendita la propria casa dando un consiglio, una volta, diciamo, ho trovato un acquirente di magari posporre quello che è il rogito a 6-8 mesi da un preliminare affinché hanno il tempo di concentrarsi appunto sulla ricerca della nuova abitazione. Invece un'altra curiosità, quali sono i parametri da valutare per chi ha intenzione di fare un investimento immobiliare? Anche qui diciamo distinguerei due tipi di investimento, coloro che comprano casa per diciamo rivenderla nel breve periodo e coloro che comprano casa per avere un rendimento, quindi una resa, un reddito mensile. Per i primi casi, appunto, come detto, sono tendenzialmente immobili che si acquistano per ristrutturare o frazionare e appunto mettere in vendita nel breve periodo e in questo caso, diciamo, il margine utile che si valuta è dal 20 al 30%, tolti ovviamente quelli che sono i costi, la tasse e le plusvalenze. Mentre per coloro che acquistano l'immobile per la messa a reddito consigliamo sia di valutare la redditività e poi anche la rivendibilità futura, anche perché insomma non si sa mai l'immobile dopo un po' si può rivendere, bisogna capire anche se ha mercato. A questo punto allora diciamo che il rendimento varia anche a seconda dei luoghi, infatti volevo dare una specifica in merito, nel senso che se facciamo un esempio, un capoluogo come Milano, le rese degli immobili sono dal 3 al 4%, però la rivendibilità è molto veloce, mentre in provincia la redditività è un po' più alta, quindi dal 6 all'8%, però magari con una rivendibilità leggermente più lenta. Insomma, questi sono i parametri. Poi darei anche un'altra specifica invece sugli immobili commerciali, ecco in questi casi la redditività deve essere un po' più alta, quindi ci avviciniamo dall'8 al 10%, anche perché poi si hanno molti più costi di proprietà. Bene Marco, tu sei sempre molto molto chiaro, anzi abbiamo capito come muoverci prima di acquistare un immobile, quindi grazie, sicuramente saranno contenti anche i nostri telespettatori e a proposito, voi continuate a seguirci, non cambiate canale perché io e Marco a breve saremo in studio con un ospite, vero Marco? Esatto. E parleremo? Parleremo di Mutui, insomma, che poi è molto correlato a quello che abbiamo appena detto, lo faremo con una professionista del settore che opera da più di 20 anni e quindi a breve vi diremo tutto. Quindi rimanete collegati e ci vediamo tra poco. Ciao, stai pensando di vendere casa e non sai da dove cominciare? One Real Estate è la prima agenzia immobiliare in grado di garantirti una vendita entro 90 giorni, altrimenti hai diritto ad uno sconto provvigionale del 30%. Chiama il numero verde di One Real Estate 883 25 22 Ben ritrovati in studio dopo questo breve break pubblicitario, sono sempre in compagnia di Marco Bonavita, cofondatore del gruppo One Real Estate e per chi non ci avesse seguiti nel primo blocco di trasmissione abbiamo parlato di acquisto immobiliare, giusto Marco? Esatto, sì. Ora in studio invece ci ha raggiunto un altro ospite, un ospite speciale, parleremo di Mutui, è qui con noi Ambra De Vincentis. Benvenuta Ambra. Buonasera. Buonasera a tutti, io sono Ambra De Vincentis e sono un consulente creditizio. In 20 anni di carriera ho accompagnato nell'acquisto più di 750 famiglie. Chi fa il mio mestiere è appunto un professionista che studia le esigenze del singolo e la fa comunicare con il mondo bancario. Quindi che cosa facciamo? Studiamo in generale tutta l'offerta bancaria e la trasformiamo in un'offerta sartoriale dettagliata, quindi costruita sulle esigenze del singolo, quindi sulle esigenze del cliente. Sì, infatti, io poi ci terrei anche a precisare questo. Insomma, a me capita spesso, avendo tre agenzie, di ricevere e di avere incontri con dei mediatori creditizi. Però non è un caso se io ho scelto di collaborare solo e esclusivamente con Ambra, perché oltre insomma le sue competenze, la sua professionalità, è anche abilitata a fare questa attività. Anche perché in questo settore è cambiato molto negli ultimi anni. Infatti, Ambra sicuramente ci può dare delle specifiche su come è realmente cambiato il settore della mediazione creditizia negli ultimi dieci anni. Sì, verissimo Marco. Per fortuna il mio settore ha subito un percorso professionalizzante, soprattutto nell'ultimo decennio e soprattutto grazie all'introduzione del decreto legge 141 del 2010 che ha modificato il testo unico bancario. La novità assoluta è stata la creazione di questo organismo agenti e mediatori, il cosiddetto OAM, organismo al quale tutti coloro il quale vogliono fare il mio mestiere devono essere iscritti. Per iscriversi a questo organismo ci sono dei requisiti specifici, per esempio bisogna superare una prova valutativa, fare una formazione obbligatoria annuale e soprattutto, aggiungo, bisogna avere dei requisiti di onorabilità. Per esempio, ogni sei mesi noi siamo tenuti a fornire all'OAM i nostri carichi pendenti, quindi dobbiamo dimostrare e all'OAM e alla Banca d'Italia di non avere pendenze penali. Esatto, è molto importante. Questo in sintesi per dire che cosa? Che fondamentalmente chi fa il mio mestiere non è lo specialista dei casi impossibili, noi siamo delle figure specializzate alle quali rivolgersi per trovare la soluzione migliore per le proprie esigenze. Mi viene da fare l'esempio, se sono un cliente che ha particolari caratteristiche reddituali, quindi potrei avere delle difficoltà in alcune banche, rivolgendosi a uno specialista che conosce appunto il panorama bancario, si verrà orientati verso quella banca che magari ha un'elasticità di policy più congrua alle proprie caratteristiche, oppure il cliente che debba finanziare più dell'80% del prezzo di acquisto, ecco anche lì verrà orientato verso quella banca che finanzia quella tipologia di operazioni. Mambra, come funziona la delibera bancaria? Ci sono due fasi. Nella prima la banca analizza la situazione reddituale del richiedente, quindi mette insieme situazioni familiari, redditi. Una volta deciso che redditualmente si può procedere, la banca va a valutare la bontà dell'immobile che si dovrà acquistare. Per fare questo fa uscire un perito, che è sempre un tecnico incaricato dall'istituto, che appunto valuta sia la bontà dell'immobile, quindi controlla che la casa sia in regola sia catastalmente che a livello urbanistico e soprattutto il perito dichiarerà che il valore dell'immobile è pari almeno al prezzo di acquisto. Ambra, invece sono curiosa di sapere quali sono le caratteristiche che accomunano il tuo settore al settore invece della mediazione immobiliare. Allora sì Giulia, credo che i due settori siano estremamente correlati. Entrambi abbiamo come fine comune quello di aiutare il cliente a raggiungere poi il sogno che è quello dell'acquisto della prima casa. Non dimentichiamoci che il bene rifugio per l'italiano è comunque la casa, lo è sempre stato e sempre lo sarà. Ovviamente Marco che cosa fa? Marco li guida nella scelta della casa ideale e io invece li aiuto a scegliere e ad avere il mutuo più... Più consono. Più consono. E quindi Ambra tu cosa consigli a coloro che decidono di acquistare un immobile e quindi di accendere un mutuo? Consiglio di fare una proposta subordinata all'ottenimento del mutuo. questo perché? Perché soprattutto nei casi in cui il cliente abbia delle caratteristiche reddituali non proprio consolidate. Faccio l'esempio, la giovane coppia che magari è stata assunta da meno di un anno oppure il cliente che deve fare un mutuo superiore all'80%, quindi avvicinarsi a un mutuo al 100%. Ecco in questo caso consiglio sempre di inserire un vincolo sospensivo, quindi prendersi un 30-40 giorni durante il quale l'agente immobiliare tiene a garanzia l'assegno a caparra e in questo periodo la banca decide se andare avanti con l'operazione e quindi fornire una delibera di mutuo oppure no. Marco confermi anche tu che spesso ricevete quindi delle proposte vincolate al mutuo? Sì esatto, diciamo che per noi non è sempre una bella notizia perché vorremmo concludere quanto prima una trattativa, però capisco bene l'importanza che si debba avere quando si acquistano immobili e quindi riservarsi l'opportunità e la concretezza di avere un mutuo importante, quindi si fanno delle offerte spesso vincolate a quella che era del libero oppure il parere favorevole di un istituto bancario. A questo punto si formula sempre una proposta di acquisto vincolata appunto al buon esito, si lascia un assegno in deposito fiduciario e poi si attende appunto come diceva Ambra un arco temporale insomma che vada da un minimo di 40 a 60 giorni affinché insomma si possano diciamo svincolare questo parere favorevole. E' pur vero che non è, non è in tutti i luoghi, quindi c'è sempre in base alla zona usi e consuetudini, quindi spesso capita che a Milano con un mercato molto frizzante è difficile magari mettere una sospensiva e se la si mette una sospensiva è per proprio un arco temporale molto breve, infatti Ambra sa che a volte magari sono giusto messe, giusto vincolate alla perizia o cose del genere, mentre in provincia invece insomma come abbiamo detto prima, quella è la condizione. Invece Ambra, credo che la pandemia abbia cambiato un po' anche qualcosa nel tuo settore, soprattutto la propensione delle banche a dare insomma dei mutui. E' cambiata un po' l'operatività, nel senso che è più difficoltoso l'accesso in filiale, le istruttorie delle domande di mutuo si sono allungate, ma fondamentalmente in termini di policy le banche non hanno modificato poi molto, certo ovviamente si fa un pochettino più attenzione a quelle categorie che magari risultano essere in cassa integrazione per Covid-19, oppure mi viene da pensare alle partite IVE, al settore della ristorazione, del turismo. Ecco, in quel caso il consulente del credito che cosa fa? Dà dei suggerimenti al cliente che possono essere o l'inserimento di un valido garante, oppure spesso per ottenere almeno una delibera chiediamo al datore di lavoro di inserire una dichiarazione in cui si attesti la data di cessazione della cassa integrazione. In questo caso la banca darà una predelibera bancaria subordinata alla fine della cassa integrazione. Ok. Marco, invece, dato che le tue agenzie usufruiscono di questo servizio, quali benefici hai riscontrato? Allora, i benefici sono veramente moltiplici. Insomma, AMBRA ormai per noi è diventato insomma un protocollo operativo, nel senso che per noi è essenziale che qualsiasi cliente abbia intenzione di fare un mutuo faccia comunque un colloquio con AMBRA o prima di fare una proposta o subito dopo. Ovviamente il beneficio è che io sono consapevole di offrire un servizio di alto livello sia all'acquirente, quindi poi magari dovrà fare appunto un mutuo, ma anche al venditore che è consapevole di avere un acquirente prequalificato sia dall'agenzia, ma soprattutto dalla nostra broker che ha analizzato la pratica. AMBRA, io sono curiosa di sapere ora come vi siete conosciuti, quindi come hai conosciuto Marco il gruppo Warrior Estate e da quanto tempo collaborate? Ormai parecchio, era il 2013 e Marco era giovanissimo, però era davvero sempre strapreparato. Io gestivo il mutuo di un ragazzo che acquistava nella sua agenzia e quindi poi abbiamo apprezzato la reciproca professionalità e quindi abbiamo iniziato a lavorare ed è iniziata anche poi un'amicizia, nel senso che poi ovviamente quando si lavora bene insieme si sviluppano i rapporti. Quindi da lì nata una collaborazione e adesso anche un'amicizia. Marco invece quando proponi questo tipo di servizio, che reazioni hanno gli acquirenti? Ma allora diciamo che come dicevo prima il servizio è di alto livello, quindi gli acquirenti lo apprezzano moltissimo. I motivi sono tanti, il primo innanzitutto che a differenza di rivolgersi solo esclusivamente alla propria banca, quando parlano con AMBRA hanno un ventaglio di opportunità istituti di credito e insieme a lei valutano quella che è la situazione migliore, il prodotto in quel momento più favorevole e poi anche in base a come imposteranno la pratica. E poi soprattutto anche il fatto di delegare quella che è insomma tutto il tempo per esperire la pratica perché noi a volte non ci rendiamo conto che tutti noi siamo impegnati, lavoriamo ma dedicarsi a accendere un mutuo vuol dire risorse e tempo e questo invece poi delegarlo appunto un professionista per me vale veramente moltissimo. E come dicevo prima poi non ne beneficia soltanto un acquirente ma ne beneficia anche un venditore che quindi ha la consapevolezza di avere una trattativa in essere con un cliente che ha prequalificato e ha la fattibilità di un vero mutuo e anche per noi come agenzia immobiliare quindi abbiamo sotto controllo la pratica e sappiamo che la pratica andrà sicuramente a buon fine. Quindi i benefici sono un po' per tutti gli interpreti. Bene Marco siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata. Dobbiamo salutare il nostro pubblico, dobbiamo ringraziare anche Ambra per il suo intervento. Grazie a voi. Grazie Ambra per essere stata qui con noi. Se vuoi lasciare qualche contatto al nostro pubblico perché siamo in chiusura. Allora sì, mi potete trovare sul mio sito internet che è www.mutuicomodi.it o alla mail infochiocciolamutuicomodi.it oppure i miei uffici sono a Monza in via Vittorio Emanuele II al 52. Perfetto, grazie Ambra per essere stata qui con noi. Il tuo intervento è stato davvero prezioso. Marco, noi dobbiamo salutare il pubblico e quindi ci vediamo poi per un altro appuntamento di Gorial Estate. Grazie a tutti.